Allora farò in modo che il fuoco cali dal cielo E inesorabile vi consumi Li terrà impegnati per un po' Ciao ragazzi, oggi ho per voi le stranezze da mamma delle star Ad esempio, pare che Alicia Silverstone abbia nutrito il suo bambino direttamente dalla sua bocca Sì, esattamente come fanno gli uccelli Invece January Jones, che avrete visto sicuramente in X-Men o American Pie Si è mangiata la placenta del figlio appena nato, subito dopo il parto Chissà, forse volevano tornare, non lo so, le loro origini animali, queste star Sono proprio strane Al prossimo video, ciao a tutti